Buongiorno ovunque siate, oggi vi parleremo di come concedersi dei piccoli lussi senza spendere molti soldi. Come? La Serie 5 Keyline è disponibile in due allestimenti cabine differenti. Scopriamolo insieme. Nella versione Comfort Cab il trattore è equipaggiato con il tappetino in gomma, un sedile in tessuto e la console piana alla sinistra dell'operatore. L'allestimento Highline invece prevede il rivestimento in gomma per tutto il pavimento cabina ed il sedile passeggero omologato. Inoltre è possibile equipaggiare il trattore con due attacchi per il compressore ad aria. Pratico vero? In optional è disponibile un sedile deluxe, un comodo poggiatesta e il bracciolo renderanno più agevole le giornate in cabina. Come la tradizione Deutz-Fahr, la cabina è sospesa su Hydro Silent Block che riducono del 40% le vibrazioni percepite. Questi, uniti alla comunità del sedile a sospensione pneumatica, aumentano notevolmente il comfort in cabina. A proposito di comfort, su tutti i modelli è offerta di serie l'aria condizionata. Non dovrai più temere le calde giornate estive. Sempre con un occhio al comfort è possibile aggiungere la radio, un porta smartphone con due prese usb per la ricarica e una staffa porta monitor per le attrezzature. Il tetto cabina è bicolore e in opzione è disponibile con tettuccio alta visibilità con forme FOPS con parasole. Sempre sul tetto è possibile installare 8 fari di lavoro per avere più luce anche quando il sole scende. Completano l'impianto luci i fari sui montanti cabina e sul cofano. Fino a 18 punti luce illumineranno anche le giornate più buie.